Un cordiale bentrovate a voi tutti dal notiziario delle Marche di TVRS. La pandemia in primo piano anche oggi con le ultime cifre relative al contagio. Sono 157 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, nel contesto comunque di un numero di tamponi processati nettamente inferiore rispetto ai giorni scorsi, esattamente 2340, come d'altronde accade ogni domenica. In netto calo i soggetti sintomatici sono 22, mentre la provincia più colpita resta sempre quella di Ancona, con 62 nuovi casi, mentre 37 sono stati riscontrati nell'Ascolano. E prosegue la campagna Marche Sicure, lo screening di massa su base volontaria con gli ormai ben noti tamponi rapidi antigenici. Da domani fino al 22 gennaio sarà la volta di Recanati e dell'ambito di riferimento. Il tampone nasofaringeo gratuito potrà essere effettuato dalle 8 alle 20 nel centro polisportivo in Via Aldomoro, da tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studi a Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Montefano e Montecassiano. I minorenni debbono essere accompagnati. Dalla 24 al 26 gennaio, dalle 8 alle 20 toccherà invece a Casterra e Mondo. Il test sarà effettuato al Lanciano Forum ed è riservato ai residenti nei comuni degli ambiti sociali 17 e 18 dell'entroterra. In Italia abbiamo avuto 8.824 nuovi casi e 377 morti. Sempre molto importante verificare la situazione nei nostri ospedali dove il numero dei ricoverati complessivi da Covid è di 676 con 85 degenti nelle terapie intensive. E da proposito di nosoccomi grandi difficoltà ad Urbino, la denuncia arriva da Anao Assomed, il sindacato di medici e dirigenti ospedalieri. Oggi sentiamo l'intervista con il coordinatore dell'Area Vasta 1. L'attuale pandemia, tra le altre cose, ha evidenziato i seri problemi, direi, della struttura sanitaria marchigiana. Uno dei casi più emblematici riguarda l'ospedale di Urbino che soffre di una, direi, cronica carenza di personale. Ne parliamo con il dottor Alfredo Rossini, coordinatore a Anao Assomed per l'Area Vasta 1. Intanto, grazie dottore per il suo intervento, dicevo un deficit di medici e dirigenti sanitari, diciamo che si avverte in modo particolare in alcuni reparti, e che l'emergenza Covid ha soltanto acuito. Questo è un po' il senso del vostro intervento? Sì, assolutamente. Quello che Anao Assomed fa ripetendo da anni ormai è che la cronica carenza di personale, personale specializzato con un'alta professionalità ormai sta minando l'efficienza del servizio sanitario pubblico. Questo si verifica soprattutto in maggiore misura nelle strutture più periferiche, come può essere qui da noi in Urbino. Ecco, voi parlate addirittura di una mancanza di 46 risorse che riguarda sia medici che dirigenti sanitari per una struttura piccola come Urbino, è una carenza, direi, rilevantissima. I numeri sono importanti, ci sono delle unità operative che soffrono una difficoltà estrema, mi viene in mente il pronto soccorso, il punto nascita, quindi l'ostetricia, la ginecologia, ma anche la radiologia, il laboratorio di analisi, per non parlare della medicina o l'ortopedia. Purtroppo la carenza di personale riguarda tutti e i numeri che noi abbiamo inchiestato direttamente all'interno del nosocomio Urbinate parlano chiaro, parlano da soli. Ecco, molte volte abbiamo sentito in questi mesi l'appellativo eroi, sicuramente il personale attuale sta svolgendo un lavoro encomiabile e direi addirittura il limite delle sue possibilità. Assolutamente sì, confermo quanto lei ha detto e lo sottoscrivo, perché non bisogna dimenticare che gli operatori sanitari, tutti i dirigenti, medici, sanitari, gli infermieri, gli os, gli autisti, i tecnici, tutte le figure che compongono la complessità del Servizio Sanitario Nazionale si dedicano tutti i giorni in modo assolutamente incommiabile, come diceva lei, per erogare prestazioni di alta qualità. La situazione, almeno in questi termini di gravità, riguarda per quello che è a sua conoscenza anche altri ospedali? Ricordiamoci che nella provincia di Pesaro Urbino c'è un'azienda ospedaliera che è Marche Nord e che comunque drena il bacino di utenti della costa, dove risiede la maggioranza della popolazione della provincia, ma non bisogna dimenticare nemmeno l'entroterra, che ha un vasto bacino demografico e che per l'orografia del territorio necessita di strutture, tecnologia, macchinari, ma soprattutto di personale umano per poter funzionare. Purtroppo è sempre molto alto nella nostra regione il numero dei decessi, che nell'ultime 24 ore sono stati 16, con il totale che è giunto a 1810. Tutti avevano patologie pregresse, il più giovane è un 75enne di Porto San Giorgio, ben 11 sono le donne. E veniamo alla cronaca. Il GIP di Ascoli Piceno, Annalisa Giusti, ha convalidato oggi l'arresto con custode in carcere di Petre Lambro, il 57enne romeno che si trova in carcere per l'omicidio di Franco Lettieri, 56enne, ex collaboratore di giustizia, originario di Salerno, avvenuto a coltellate venerdì scorso ad Ascoli Piceno. L'uomo è accusato di omicidio volontario in concorso con il nipote, 17enne, sottoposto ieri a fermo giudiziario dalla Procura per i minori di Ancona ed ora ospite di una casa protetta. Agli atti dell'inchiesta vi sarebbero i filmati di una telecamera di sicurezza che avrebbe ripreso parte dell'accaduto. Sono comunque sempre oscure le motivazioni che hanno portato allo scatenarsi della furiosa lite culminata con l'uccisione. I carabinieri di Castelplanio hanno individuato un'abitazione da cui giungevano i rumori tipici di una festa. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento con l'ausilio di rinforzi giunti dalle caserme vicine ed hanno trovato 12 giovani, tra cui 8 minorenni, intenti a bere alcolici, mentre due di loro sono stati trovati in possesso di due spinelli di marijuana e per questo segnalati alla Prefettura di Ancona. Per tutti sono scattate le sanzioni per la violazione delle normative anti-Covid. Tre giovani, tutti di origini pakistane, procedevano in auto lungo la provinciale quando, nei pressi del centro abitato di Monte Rubiano, hanno avuto un incidente probabilmente causato dal ghiaccio. Uno di loro è sceso dal veicolo per sistemare il cartello per segnalare il sinistro ed è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. il giovane è stato trasportato in eleambulanza all'ospedale di Torrette. Ed ora cambiamo argomento. 60 compagnie per più di 220, non solo di teatro ma anche di musica, danza e circo. In modalità online è stato presentato il cartellone Marche palcoscenico aperto, il festival del teatro senza teatri, in servizio di Manolita Scocco. Si può fare teatro senza teatro? Per Regione Marche ha assessorato la cultura e Amat assolutamente sì. Non solo recitazione ma anche musica, DJ set, danza, circo. Insomma il miracolo dello spettacolo non si ferma neanche con la pandemia, con un festival lungo cinque mesi che dal prossimo 23 gennaio, quando inizierà la prima fase, a maggio, coinvolgerà 60 compagnie per oltre 220, tutti in streaming, online, al telefono, sui principali canali social con 545 lavoratori dello spettacolo coinvolti. Una risposta concreta alle quasi 400 proposte arrivate per il bando nato come prima risposta all'attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo per l'emergenza sanitaria che inizialmente aveva messo in campo 120.000 euro e che ha avuto un ulteriore ampliamento di 180.000 euro dalla giunta regionale in un'ottica di ripartenza e sostegno a chi fa cultura per professione, come evidenziato l'assessore regionale Giorgia Latini. Siamo stati contentissimi nel vedere proprio questa ampia adesione del territorio dove sono arrivati tantissimi progetti ma soprattutto sono stati coinvolti tantissimi lavoratori, tantissimi artisti, parliamo ben di 545 artisti del territorio e secondo me questo qua è un segnale bellissimo perché significa che abbiamo dato la possibilità a queste persone di continuare a lavorare, di impegnarsi comunque per dei progetti. Quindi è stata una misura non assistenzialistica ma proprio volta al lavoro, al lavoro degli artisti marchigiani. C'è stato uno stanziamento di fondi iniziale di 120.000 euro e poi sinceramente tutta la giunta ha voluto ampliare questa misura insieme a me visto il successo e vista anche le manifestazioni di partecipazione al bando è stata ampliata con ulteriore ricordo 180.000 euro. Procida è la capitale italiana della cultura per l'anno 2022, è stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Bagliacurioni dopo l'esame dei 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate tra cui Ancona. Il nostro progetto popolare di crescita e di sviluppo va comunque avanti e lo realizzeremo insieme. Sono state le prime parole della sindaca Valeria Mancinelli sui social che non ha nascosto comunque più di un pizzico di amarezza. È morto all'età di 92 anni Luciano Gregoretti, originario di San Severino, autore di innumerevoli programmi televisivi ma anche apprezzato regista cinematografico, docente per oltre un ventennio all'Accademia di Belle Arti di Macerata, già marchigiano dell'anno e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Pur risiedendo ormai da tempo a Roma non aveva mai dimenticato le sue radici e ha sottolineato la prima cittadina settempedana Rosa Piermattei che ha ricordato anche le sue numerose produzioni dedicate al territorio. A Porto Potenza Picena è stata parzialmente chiusa la scuola dell'infanzia, sentiamo le motivazioni nel servizio di Mario Giannini. Danni a solaio della scuola comunale dell'infanzia di Porto Potenza Picena. Questo è il risultato degli accertamenti della struttura disposti dal comune ed affidati ad uno studio tecnico esterno. A seguito della relazione tecnica il sindaco Noemi Tartabini ha firmato l'ordinanza per la chiusura di parte del plesso scolastico, in particolare di cinque classi che già da mercoledì 20 gennaio saranno ospitate presso gli spazi della scuola elementare di Potenza Picena in via dello Sport, dove erano state costruite alcune aule per la locale scuola media quando fu ristrutturata la vecchia scuola di circonvallazione Le Grazie. I tecnici nella relazione hanno evidenziato insufficienti livelli di sicurezza nelle fasi statiche e nessuna garanzia in caso dei sismi. La relazione invita le autorità comunali a non utilizzare il fabbricato in nessuna delle sue parti. Tutto ciò fa pensare che è necessario costruire una nuova scuola dell'infanzia, quando ancora sono in corsi i lavori per la scuola elementare che, dice il cartellone esposto, termineranno a settembre 2021. Eppure, dopo il sisma del 2016, ci sono stati controlli in tutte le scuole della provincia che evidenziarono danni leggeri alla struttura, ma il complesso edilizio fu ritenuto agibile, suggerendo alcuni interventi a pilastri e travi perimetrali del piano rialzato. Tutti questi lavori suggeriti avrebbe dovuto spingere l'amministrazione a provvedore con urgenza, cosa che non avvenne. Passando dinanzi alla scuola è facile notare l'incuria degli esterni, cosa visibile anche in altre scuole del capoluogo dove si notano recinzioni cadenti e rinferriate arrugginite. Il disagio per bambini e famiglie, dice il sindaco, sarà temporaneo e gli alunni saranno trasportati gratuitamente a Potenza Picena con il servizio Scuola Bus. E siamo ora alla pagina sportiva, riepilogando un po' ciò che è avvenuto in questo fine settimana. Apriamo con il basket. Senza Matteo Tambone, positivo al Covid, l'infortunato Massenà e Carlos Delfino, fermato da una lombalgia con contrattura muscolare, la Carpegna e Prosciutto resta in partita a Sassari per quasi 30 minuti per poi cedere di schianto al Banco di Sardegna che si impone 99 a 74. Non è bastato ai biancorossi pesarese Henri Dre, il miglior realizzatore con 16 punti, ed ora domenica alle 18.30 turno casalingo con l'Acqua San Bernardo di Cantù. Era la giornata dei derby in Serie B che sono andati alla Luciana Mosconi e dalla Sutor Montegranaro rispettivamente con Ristopro Fabriano e D'Aurora Iesi. Due gare comunque decise quasi sul filo di lana, in particolare negli Anconetani grande prova di Leggio, trascinatore dei suoi e non solo, per i 26 punti a referto. Facciamo ora un break con il ciclocross ed il tricolore Wisp che si è disputato ieri nel Fermano a Torre di Palme, il servizio con la collaborazione di Umberto Martinelli. Torre di Palme ospita al meglio il campionato nazionale ciclocross Wisp edizione numero 48. Organizza il pool gestito da Rolando Naviglia ed Enrico Mezzabotta, patrocina il comune di Fermo, il saluto della Municipalità è portato dall'assessore Alberto Maria Scarfini e dal consigliere Christian Falzolger. Concorrono all'allestimento i soliti amici mecenati di lungo corso, il verde è quello del ristorante La Fonte di Mosè, il cui spettacolare anello e la cui solida organizzazione vengono scontatamente premiati. Le marche danno seguito alla propria tradizione vincente, espressione dell'intenso ed avanguardistico impegno del comitato ciclismo Wisp regionale, il cui coordinatore Giancarlo Tordini è affiancato in primis da Gianluca Cattapà. L'ecoilpidiense si avvale della collaborazione di Giuseppe Luciani, Benedetto Bollettini, Alessandro Tordini, Sauro Mazzante, Mirco Marini e Franco Ripa. Supervisione il settore ciclismo nazionale Wisp, protocolli sanitari rigorosamente rispettati. Presidente del collegio di giuria è Umberto Capozucco. A vestire i campioni di bianco-rosso-verde è chiamato il presidente nazionale del ciclismo Wispino Davide Ceccaroni. In palio i trofei Ecoilpidiense, Pasta dei Carloni, Scampofilone, Galantina Sis, Pastificio Agricolo Mancini, Vini Santa Liberata. L'anello tecnico è di 2100 metri, due sono le gare open, ognuna di 50 minuti, con le partenze scaglionate per categorie. Doppia cronaca, tricolore, prima corsa, careggiano i crossisti maggiori di lungo corso le Valchirie. L'oro open è a pannaggio dell'Emiliano Massimo Corti, portacolori del sodalizio Isle Sickling. È suo il titolo Master 5, davanti ai pari categorie Andrea Pigini, Park Prix e Massimiliano Buonaduce, non solo ciclismo. Con il quinto posto assoluto Cristiano Mazzoni conquista il primato della Master 6. Gli altri titoli premiano Adriano Conti, Polisportiva Belmontese, Master 7 e Mimmo Toni, team Iacobike, Master 8, Lea Mazzoni, Mirella, Vittoria Nemes, Polisportiva Belmontese ed Erika Mariangela Gianni. Seconda corsa si confrontano i più giovani funamboli del ciclo pratismo italiano amatoriale. La vittoria arriva al toscano Simone Pioli che conquista il titolo della Master 3 per i colori del Park Prix. Con l'argento Mario Baschieri, gruppo bici Modena, si laura tricolore nella Master 4. Il bronzo equivale al loro Elite Master Sport per Filippo Bigi, New Motorbike. Sesto e migliore dei Master 2 è Luca Lupinetti, team cycling Iacchini, settimo e bianco rosso verde nei Master 1, Alessio Zovoli, Meo Venturelli. Le Marche del Cross salgono complessivamente 11 volte sul podio. Argento, Giulio Conti, Belmontese, Franco Di Vita, Wisp Fabriano, Cristian Tarsi, Bike Service Corinaldo, Andrea Pasquarella, Cobo Pavone, San Severino Marche, Alberto Lalone, Abitacolo Sport Club, Rapagnano. Bronzo per Carlo Donnini, Avis Sassoferrato, Iuri Casciato, Bike Service Corinaldo, Gianluca Pioli, Corinaldo, Alberto Gobbi, Abitacolo Sport Club. Approfondimenti, giovedì ciclismo, TVRS, Canale 11 alle 22.30. Venerdì sulle strade, TVRS Marche, Canale 11 alle 20.15. Nella pallavolo prova altalenante della Lube che solo al tiebreak sabato è riuscito ad avere la meglio di una combattiva Leo Schuss-Modena. Guantoregni e compagni sono ora attesi da un doppio impegno. Giovedì alle 17 recupero con il vero volley Monza, mentre domenica in campionata è previsto il match a cisterna prima di affrontare i quarti di finale di Coppa Italia contro Padova. Nel femminile di Serie A2 derby palpitante ammacerata con la CBF Balducci che rimonta, è riuscita a piegare la Megabox Vallefoglia per 3-2 conquistando la quinta vittoria consecutiva ed alimentando le sue speranze di approdare alla pool promozione. Le pesaresi con 33 punti restano al comando del Gironesta anche per il rinvio del match del Cutrofiano. In a tre maschile vincono con il massimo scarto sia la Medstore ancora con un Super Dennis a Torino, la telecronaca questa sera alle 21.35 sul canale 111, sia la Vigila Alfano che compie l'impresa con la leader Porto Viro. Vediamo ora le previsioni meteo per martedì 19 gennaio. Buona giornata da Nikos Chiodetto. Andiamo ad osservare la previsione per martedì perché in realtà su gran parte dell'Europa centro-meridionale avremo una stabilità prevalente, una pausa dalle perturbazioni che poi in realtà nella seconda parte della settimana ritorneranno a bagnare gran parte dei settori centro-meridionali. Ecco le qui le zone di bassa pressione che si organizzeranno a partire da mercoledì in avanzamento verso Levante, verso l'Italia con il ritorno di pioggia e acquazzoni. Anche il grande gelo presente in questi giorni sarà indecisa ritirata verso est per questo flusso ben più temperato da ovest verso est. Andiamo al dettaglio quindi con la nuvolosità che ci mostra una bella giornata in realtà. Migliora anche al sud, cieli sereni o poco nuvolosi. Poi dal pomeriggio si attiverà l'Ibeccio con le nubi, eccole lì, compatte sulla Liguria, l'Alta Toscana, dalla serata anche Lazio, Campania e torneranno le prime gocce di pioggia. Lo possiamo osservare con lo zoom mediterraneo, precivilazioni. Una giornata con assenza di piogge inizialmente, poi piovigini, deboli fenomeni. In arrivo dal pomeriggio sulla Liguria, sulla Alta Toscana, ma guardate in serata anche tra parte di Lazio e Campania, qualche piovigine, nulla di che. Sono i venti di lìbeccio carichi di umidità dal tirreno che precedono una perturbazione che avanzerà da ovest, dalla Francia, dall'Inghilterra e dalla Spagna a partire da mercoledì e giovedì. Nel dettaglio quindi una giornata dicevo abbastanza soleggiata, poi i nubi in aumento sulla Liguria e sull'Alta Toscana con le prime deboli precivilazioni dal pomeriggio. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'app di Trevi Meteo. Calcio, Andrea Ancora di Roma sarà l'arbitro incaricato di dirigere il recupero di mercoledì del campionato di Serie C tra Matelic e Carpi. In programma lo stadio Elvia Recina di Macerata alle 15. Assistenti saranno Cipolletta di Avellino e Cesarano di Castellammare di Stavia. Partita importante per i biancorossi che recuperano il difensore capitano De Santis chiamate a riscatto dopo la prestazione certamente non del tutto convincente di sabato scorso ad Imola. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione. Grazie per la cortesa attenzione.